Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti di opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Proseguiamo il nostro angolo palacanestro, ieri sera abbiamo parlato di Euro Cup con la vittoria stupenda della Virtus Bologna contro l'Ulm al termine di una partita che è stata assolutamente meravigliosa, stamattina invece parliamo della gara 3 tra l'Anadol UFS e l'Olimpia Milano. Hanno vinto i turchi, vittoria per 7-7-6-5, la squadra di Ataman si porta in vantaggio 2-1 nella serie. E prima di entrare nel video con i nostri 10 punti classici di commento, ricordatevi se vi dovesse piacere il video, grazie per mettermi un like, grazie per iscrivervi al canale e soprattutto grazie per il grande sostegno che hai dato al mio canale e le tantissime iscrizioni che sto avendo anche in questo giorno. Grazie a tutti ragazzi. Venendo a questa partita, Olimpia in difficoltà sicuramente di rotazioni, tante assenze, Datomi ha giocato solo due minuti, il Ciaccio invece è riuscito comunque a giocare, di Leni non c'era, Meli è ancora fuori, credo che però sia proprio l'assenza di Meli la più decisiva in questa partita e lì sotto che l'Olimpia alla fine c'è meno ombrello difensivo e più difficoltà a coprire il canestro. La partita è stata comunque piuttosto equilibrata, l'Olimpia ha giocato una buonissima sfida, è arrivata agli ultimi minuti della gara, penso mancassero tipo 4 minuti alla fine ed erano ancora pari le due squadre, quindi niente da dire, anche stavolta la squadra di Messina ha giocato assolutamente una partita piuttosto positiva, però nel finale sono saliti in cattedra Larkin e Micic, due giocatori assolutamente top, due giocatori veramente difficili da marcare e con un parziale finale hanno chiuso la gara e dato alla squadra di Ataman il match point nella partita che si terrà domani. Primo tempo 42-35 per l'Olimpia, per l'EFS secondo tempo 35-30, quindi il punteggio ulteriormente calato, l'Olimpia è stata capace di segnare 21 punti nel terzo periodo, solo 9 nel quarto quarto quando ha trovato Canestro con ancora più grande difficoltà. Bisogna dire la verità, l'Olimpia non sta giocando, è una squadra che ha sempre fatto fatiche in avanti quest'anno in attacco, ha segnato sempre molto poco, ha sempre vinto le partite grazie alla difesa, qui anche in questa partita è un po' come in gara 1, sono un po' le percentuali, non sono state così disastrose come in gara 1, ma tante volte l'azione è anche ben strutturata, la conclusione è quella giusta, non ci sono forzature particolari, semplicemente il pallone non entra, le percentuali sono troppo basse. Devo capire, però devo dire anche che mi dispiace che un giocatore come Daniels, che è uno di quelli con maggior talento offensivo, anche oggi abbia giocato sostanzialmente una sola azione, un'incertezza col Ciaccio, un brutto passaggio del Ciaccio, un fallo antisportivo di Daniels, grave comunque, perché dall'antisportivo sono venuti due punti, poi è un giocatore a tre punti, insomma è un'azione che valsa a cinque punti, era Nadolu, però visto questo Daniels è poi sparito dal campo, magari forse non è un giocatore ancora pronto all'altezza di questo livello, sicuramente è cresciuto meno di quello che può essere cresciuto per esempio un giocatore come Old, tutto diverso, e attenzione, però magari qualche minuto in una situazione, in una serie nella quale l'Olimpia fa così fatica a fare canestro, credo che lo potrebbe anche tenere, per l'Efes lo potrebbe ottenere, per quanto riguarda l'Efes da notare un'incredibile percentuale, di solito lo diciamo sempre, parla canestro come insegnava coach Franco Gasalini, è uno sport 80-60-40, 80 alla lunetta, 60 da 2, 40 da 3, l'Efes ha fatto 80 da 2, 20 su 25, una percentuale che raramente nel basket moderno mi è capitato di vedere, 9 su 27 da 3, quindi alla fine ha tirato più volte comunque da 3 che non da 2, percentuali pazzesche, per l'Olimpia ha divisione 31-29 nei tiri, un paio di tiri in più da 2 che non da 3, però 16 canestri da 2 per il 52%, solo 8 da 3 per il 28%, da 3 ancora troppo bassa, non malissimo come la Virtus di ieri che ha fatto all'8% addirittura e ha vinto giocando, appoggiandosi a Jaite e Sampso sotto canestro, ma percentuali comunque sicuramente troppo bassi. Come detto, grande la battaglia sotto canestro, dove Milano ha preso 14 rimbalzi in attacco, anche i rimbalzi solitamente erano stati un problema durante la regola season, invece anche ieri l'Olimpia sotto canestro è andata bene, Tarzeschi ha recuperato 4 rimbalzi offensivi e la vittoria della squadra Olimpia 33-24 nel confronto a rimbalzo, questo è un dato molto importante che dimostra comunque anche la tenacia e la voglia con quale l'Olimpia sta affrontando questa partita, non è un problema di benzina finita come lo scorso anno nella serie con la Virtus, qui è un problema di sicuramente coperta corta per le assenze e 2, comunque l'avversario è molto forte, quest'anno ad Oro non c'è assolutamente niente da dire, Micic 20 punti, 7 su 8 da 2, quando penetra è assolutamente difficilmente arrestabile, 2 su 8 da 3, Larkin 16 punti, lui viceversa, 1 su 2 da 2 e un 4 su 7 da 3, comprese le triple nel finale decisiva, ma giocatore chiave della gara forse è stato Tibor Pleiss, 17 punti con 6 su 10, 21 di valutazione, assolutamente splendido. Per Milano mi è piaciuto molto Grant, Grant che c'è stato bisogno di lui di più oggi, vista l'assenza di Delaney, 11 punti, 22 minuti, un bel 4 su 4 al tiro, un paio di triple nel primo quarto quando l'Anadolu stava cercando di dare il primo strappo, 15 di valutazione e un ottimo più 13 anche nel plus minus, mi è piaciuto veramente tanto lui. Invece come detto per Milano le assenze ci sono state, da notare lo 0 su 5 al tiro di Bentil, le triple di Bentil nella prima gara uno furono decisive per tenere l'Olimpia attaccata nello strappo che allora nel secondo quarto stava cercando di dare alla formazione turca. In questo caso Bentil ha presso dei tiri belli, aperti, soprattutto quelli del primo quarto, ma semplicemente il pallone non è entrato. Ha fatto un po' più di fatica a Shields, 9 punti e 3 su 13 e permane quell'1 su 5 da 3 punti che è il dato che il giocatore danese non è riuscito a migliorare nel corso della stagione. Ancora notevole Hall, 33 minuti in campo, 22 di valutazione, 16 punti con 5 su 9 al tiro. Come è messa la serie ora? Io credo che sia ancora viva comunque perché l'Olimpia sta dimostrando di avere risorse mentali che gli possano permettere di tenere ancora aperta questa sfida. Certo l'Anadolu è una squadra forte, c'è fattore campo, 15.000 spettatori. Ieri rumorosi come previsto e come aveva detto giustamente è cociata, ma alla fine di gara 2 non è facile. Però secondo me non è così giocata e non è così... è un'Olimpia che il suo lo sta facendo. Se dovesse uscire uscirà comunque con l'onore delle armi e comunque sicuramente avrà sempre da mangiarsi le mani per queste assenze che nel momento più importante della stagione sono arrivate. 31 falli in perfetta media di Belosevic, il Crucif di ieri, l'arbitro che fischia di meno in Eurolega quando sono in campo le sue terne, 7 il voto a lui, 6 mezzo a Boltauser e Perez Pisarro. Devo dire un arbitraggio magari non perfetto proprio in ogni suo fischio però mi è piaciuto molto la gestione della gara, mi è piaciuto molto il tentativo di tenere anche soprattutto da parte di Belosevic con il prevento officiating parlando con i giocatori facendo capire che stava per fischiare, ho trovato un arbitraggio comunque importante in una partita comunque combattuta, non che non mi è piaciuta molto di più Virtus Ulm, non so se è per via della formula, non so se è per il modo di giocare delle squadre, io quest'anno sinceramente mi sto divertendo di più con l'Eurocup che non con l'Eurolega. Intanto un ultimo punto, il Maccabi che si era scelto l'avversario ha preso 3-0 e si è fatto eliminare dal Real, forse gli conveniva scegliersi l'Olympia che non scegliersi il Real. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, vi aspetto domani gara 4. Ciao a tutti, un bacio da Lox.